salve ragazzi ben trovati da onofre colucci qui da runway sport oggi vi proporrò una scarpa eccezionalissima nuovissima nel mercato mondiale della calzatura tecnica sportiva oggi parleremo di un prodotto straordinariamente efficace per determinate situazioni è la nuovissima brux adrenalin gts 19 con la innovativa guide rail support system technology questa nuovissima tecnologia messa a punto da brux offre un allineamento olistico stabilizzando l'inversione calcaneare della parte interna limitando il disallineamento del calcagno nel lato esterno riducendo così la rotazione della tibia per mantenere il movimento naturale del ginocchio ovviamente e permettendo comunque alla caviglia al ginocchio stesso di lavorare meglio e in asse quando il tallone va fuori asse rispetto alla protezione naturale che assume nel movimento la torsione eccessiva e il disallineamento non solo impattano sulle ginocchia ma risalgono lungo tutta la catena cinetica compromettendo anche i fianchi e schiena in questo senso lavora il supporto guide race con la consapevolezza che la struttura anatomica del piede è più sofisticata dell'architettura di qualsiasi scarpa il supporto quindi è stato creato per promuoverne i movimenti naturali e non certamente per correggere perché meglio del piede non si può creare ogni atleta che sia un pronatore che sia un appoggio neutro ha comunque bisogno di un supporto i primi a beneficiare della tecnologia guide race durante tutta l'intera corsa mentre i secondi parliamo dei neutri solo quando il loro corpo esce dal suo allineamento appoggio preciso allacciatura efficiente e maggior struttura la stampa in 3d fit print sulla fascia mediale garantisce elasticità e struttura per un sostegno efficace ma leggero tomai e mesh ingegnerizzato traspirabilità e adattamento del piede crash pad segmentato per un appoggio morbido incrementando la capacità di ammortizzazione rispetto alla tradizionale struttura del tallone quindi più fluide con transizioni taccopunta molto più fluida morbidezza nel sottopiede offre la massima morbidezza alla punta del piede peso uomo 312 grammi peso della donna 272 grammi scarpe eccezionali aspettavamo da tempo questa nuovissima produzione brooks adesso attendiamo soltanto le vostre prove in negozio quindi ravo e sport vi attende qui a noi cattaro è tutto per il momento da uno fricolucci a presto